Ha ordinato ancora da bere quando è venuta la cameriera. Si è ricordato quello che volevo. È stato lui ad abbracciarmi, ha detto che era stato bello conoscermi. Aspetta, l'ha detto all'inizio della serata o alla fine della serata? Alla fine? Perché? Ha importanza? Sì, è stato bello conoscerti a inizio serata, è normale. È stato bello conoscerti a fine serata. Allora, può voler dire che ti scarica. Forse è stato all'inizio. Ok, va bene, ti richiamerà. O forse è stato alla fine. O forse era solo stato bello conoscermi. Aiuto. Ciao. È una tortura. Come faccio a inventare una cosa breve ed appropriata sulle miscele alla cannella? È difficile concentrarsi sulla cannella quando l'uomo che potrebbe o non potrebbe essere l'uomo dei miei sogni è latitante e non mi telefona. Dopo essere uscita con Nilla, sono stata io a chiamarlo. Non ci sono più regole. E poi perché avrei dovuto aspettare che lui muovesse il culo? Sta suonando. È abbastanza normale. Ciao, sono Connor Belli. La seguita. La tua messaggio dopo il film. Gli appunti. Grazie. Ciao Connor, sono Gigi. Ho pensato che non ti ho sentito. Insomma, è stupido che una donna debba aspettare che sia l'uomo a chiamare, giusto? Perché siamo tutti uguali, no? Più che uguali. Vengono ammesse alla facoltà di legge più donne che uomini ora. Insomma, non so se l'hai visto in tv, ma le donne in pratica adesso hanno anche il pene, giusto? Allora, chiamami. Ah, sono Gigi. Chiamami. Sta tranquilla. Ti telefono di sicuro. Grazie. Grazie. Grazie.